papà ciao allora io ti chiedo a cortesia ti voglio far partecipare di un effetto che ho creato che è veramente strabiliante vediamo allora qui abbiamo due mazzi di carte prima cosa in assoluto prima cosa in assoluto mescola di carte mazzetto blu mescolato ok quindi l'importante adesso quello che vedete è quello che farete all'acquisto di questo mio nuovo effetto dopo che l'hai mescolato da ex pokerista si cosa faccio vediamo giù lo lasciamo dentro ok e non verrà più si toccato mazzo rosso ovviamente potrei farvi vedere tutte carte diverse dopo le facciamo vedere una a una ok ma andiamo veloce perché mi chiedono tantissima memoria va bene si perfetto ora ascoltami benissimo cosa cosa faccio tieni le carte in mano si questo è il tuo mazzo si chiamiamo il mazzo fuoco e il mazzo cielo si distinguono da due cose ok tu tieni il mazzo fuoco si ora dato che questa è una cosa solo mentale non ha a che fare con trucchi carte truccate o del genere ti devi un po concentrare ok ora tu dovrai pensare una carta quella che vuoi si vuole i cuori fiori picchi dalla nostra quella che vuoi girare le carte una la volta da sopra ok e mentre giri conti cioè la prima fai uno due tre finché arrivi la tua carta si ma non ti devi fermare la tua carta ma ti ricordi in che posizione è la tua carta si ma vai avanti lo stesso fino a che finirai tutto il mazzo si ok io ho tutta questa operazione che fai io non posso sopra niente vabbè comincio da sopra e giri lo chiusi hai? si! 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 ti stai perdendo? eh?! si! 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 che stai perdendo? eh?! si! 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 se Ti stai perdendo? No, no, no. Ma devo contare sempre? No, no, dopo non conti più. Allora, riprendi le carte, riprendi le carte. Vabbè, non conto più. Adesso io non conto più. No, no, riprendi tutti, riprendi tutti. Sì. Mescola, mescola, mescola. Ti faccio un esempio, il giro che ti mostro, come prima doveva essere. Tu giri e mentalmente conti. Hai pensato, facciamo un esempio, due di cuori, no? Sì. Tu giri una, due, tre, quattro mentalmente. Quando arrivi al due di cuori, cada la quinta, ti ricorderai due di cuori e la quinta, giusto? Sì. E poi vai avanti, in silenzio. Non ho capito. Però non conti più, non ti racconta più niente di contare. Va bene, va bene. Ce l'hai la carte 20? Sì, sì. Tutto è all'ultima. Lai. Adesso lo devo vedere, adesso lo devo vedere. Tu l'abbè vista da toccata, giusto? Giusto? Sì. Solo tu sai dove è, in che posizione, giusto? Sì. A posto. Fatto? Sì. Ho fatto, signori, ho fatto. Scuadrato tutto? Sì, sì. Tu hai contato mentalmente? Sì, ho fatto tutto, quello che mi hai detto. Ok. Sì. Ora, io, per quanto tu hai fatto questo lavoro? Sì. Io sento delle, che ci sono delle impronte digitali, questo è fatto, si chiama digital a canne, delle tue impronte. Sì. Pazzesco, vero? Vabbè, vediamo. Ci sono delle impronte, le vedi? Ma io non vedo niente, come cosa? Potrebbe essere anche questa, questa, questa. Nera è la tua carta, vero? Sì. Potrebbe essere anche questa qua. Non alta come carta, vero? Vabbè, ok. Mescola le carte. Tutte. Sì, mescola, mescola. Tu hai una carta solo in mente? Sì, ce l'ho io. Certo. È possibile per me, mentalista, sapere che carta è. Sì. E sapere il numero che hai in mente. È bello. Ci siamo fin qua? Certo, ci siamo. Questo è il mazzo fuoco. Sì. Qui abbiamo un altro mazzo, dove tu hai mescolato, ok? C'è niente? Sì. E chiaramente, sono tu, testimone qui che sei vicino, sono tutte carte. E rimescola ancora. Rimescola ancora. Sì. Possiamo vedere che proprio è tutto, ciò che vedete è tutto reale, ragazzi. Siamo qua in live. Ok? Ora, chiaramente, la tua carta, io non posso sapere niente. Ora qua userò un po', diciamo, una magia mentale. Chiamasi una leggera ipnosi. Ma capirei cos'è. Ora, la tua carta tu la vedrai, non mi dire dove, non voglio sapere niente. Sì. Potrebbe essere... Ma, vabbè. È impossibile sapere, giusto? Sì. Andiamo ad un altro mascolatino, magari. Non lo vuoi. Ma tanto, è tutto mascolato, quindi se ne frega. Sì, sì, non lo vuoi. Tu stessi tenendo le carte, ok? E ora, per la prima volta, dimmi la carta che stai pensando. Cioè, quella che ho fatto io. Che hai pensato? Cinque di picche. Cinque di picche. Sì. Tu hai un numero in mente, giusto? Certo. Ora, per la prima volta, tu stesso, che numero hai in mente? Quello che ho fatto prima, che ho cercato il numero. L'ho fatto tu. Lo devo dire? Sì. Venti. Tu stesso, se qui ci fosse il cinque di picche in ventesima posizione. Eh beh, è una cosa miracolosa, non si capisce mai. Uno alla volta. Gira. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici, tredici, quattordici, quindici, sedici, diciassette, diciotto, diciannove. Questa è la ventesima carta. Dovrebbe essere la mia, in teoria. Tu hai pensato la carta. Eh. Io non so niente. Io non credo che sia la mia, però dovrebbe essere la mia, se tu hai veramente indovinato. Mostrato. Cinque di picche. Ma come ha fatto? Incredibile, ma perché il numero l'ho pensato io, tutto l'ho pensato io, ho mescolato. Tu sei andato avanti fino alla fine del mazzo. Quindi, il mente non può sapere di niente. È incredibile. Esiste, siamo nel mondo digitale. È incredibile, è incredibile. Le impronte digitali, o forse è una fanzonia, perché questo è un miracolo. Ciao ragazzi, Stefano. Incredibile. Proprio incredibile.